Ben ritrovati tutti quanti in una nuova puntata del Puzzillo del Sud, chi vi parla è il vostro sempre più mostro classico del cinema Puzzillo e oggi vediamo il tutorial e la recensione di Horrified. Prima di iniziare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno, non dimenticate di attivare la campanella e se davvero apprezzate quello che sto facendo prendete in considerazione l'idea di abbonarvi al canale. Inoltre se siete interessati all'acquisto di giochi da tavolo vi consiglio lo store Magic Merchant dove troverete tante promozioni e offerte e per approfondire vi lascio il link in descrizione e nei commenti. Horrified è un gioco da tavolo collaborativo da 1 a 5 giocatori della durata indicativa di 60 minuti a partita, edito dalla Ravesburger che fra l'altro ringrazio tantissimo per avermi fornito la copia per poter rifare questo video e infine l'autore è Prospero Hall. In questo gioco dovremo affrontare gli iconici mostri della Universal Studios, ovvero i mostri apparsi nelle vecchie pellicole che successivamente sono entrati nell'immaginario collettivo. Ognuno dei giocatori dovrà guidare un personaggio e dovrà collaborare con gli altri per salvare gli abitanti del villaggio e nel frattempo per elaborare un piano per sconfiggere le creature. Mi raccomando bisogna fare in fretta perché purtroppo il tempo è limitato e se il mazzo dei mostri finisce o il terrore arriva al massimo allora i giocatori perdono immediatamente la partita, mentre per quanto riguarda la vittoria bisogna cercare di sconfiggere tutti i mostri. Detto ciò come al solito non vi voglio anticipare troppo e dunque vediamo il tutorial del gioco. Prepariamo una partita per due giocatori. Per prima cosa posizioniamo il tabellone al centro del tavolo e poi mettiamo l'indicatore del terrore sullo spazio zero dell'apposito tracciato. Fatto questo vicino al tabellone mettiamo tutte le pedine degli abitanti del villaggio assieme ai tre dadi neri. Adesso mescoliamo coperte tutte le carte beneficio e tutte le carte mostro e poi è il momento di scegliere la difficoltà. In questo tutorial utilizzeremo i mostri indicati per la prima partita e quindi prendiamo tutto il materiale associato a Dracula e alla creatura della laguna nera. Se ci sono problemi nella preparazione dei mostri basta controllare il retro di ognuna delle schede e qui vi sono le istruzioni per concludere il setup. Ovviamente le schede inutilizzate ritornano nella scatola assieme a tutti i componenti legati a quei mostri e invece sul tabellone vengono messi i componenti dei mostri in partita. Fate attenzione poiché alcuni elementi di gioco vengono piazzati sulle schede dei mostri e non appena le miniature sono state piazzate. Sul tabellone di gioco è il momento di assegnare la frenesia. L'indicatore della frenesia viene messo sulla scheda del mostro con il valore più basso accanto a quest'icona e dunque nella prima partita Dracula sarà inizialmente in frenesia. Fatto ciò si assegna casualmente ad ognuno dei partecipanti un distintivo che rappresenta il suo personaggio per l'intera partita e in aggiunta prende la pedina che rappresenta il suo personaggio insieme a una carta aiuto. La pedina poi viene subito piazzata nel luogo di partenza indicato dal distintivo e quindi nel caso del professore la pedina viene messa sull'ospedale. Fatto ciò ognuno dei giocatori pesca una carta a beneficio che viene messa subito scoperta vicino al distintivo del nostro personaggio. Infine come ultimo passaggio mettiamo tutti gli oggetti all'interno del sacchetto e poi non appena viene mescolato per bene vengono estratti i 12 oggetti di partenza. Ogni oggetto viene subito posizionato nel luogo indicato nella parte inferiore dell'oggetto stesso e ad esempio questi tre oggetti vengono messi nel luogo appropriato ovvero il distretto. Non appena tutti gli oggetti sono stati piazzati allora si può iniziare a giocare. Una partita horrified si divide in turni. Inizia il primo giocatore che viene determinato casualmente e poi si prosegue in senso orario. Il giocatore attivo durante il proprio turno deve completare le due fasi indicate sulla carta aiuto e vediamo subito la prima fase ovvero fase eroe. In questa fase il giocatore attivo può svolgere quante azioni desidera fino al massimo indicato sul suo distintivo e la stessa azione può essere ripetuta più volte e non importa l'ordine in cui si svolgono. Il professore può svolgere al massimo un totale di quattro azioni e mi raccomando prestate particolare attenzione alle carte beneficio possedute dai vari giocatori. Queste possono essere utilizzate in qualsiasi fase eroe anche se quel personaggio non è il giocatore attivo. Ad esempio la sindaca può utilizzare la carta beneficio per dare una mano al professore e quando si utilizza una carta beneficio semplicemente si applica l'effetto e poi la carta viene scartata. Vediamo adesso tutte le azioni del gioco e partiamo dall'azione muovi. Quest'azione permette di muovere la pedina del proprio personaggio di uno spazio adiecente su una casella illuminata. In pratica non è mai possibile entrare in spazi d'acqua e se nello spazio in cui ci troviamo ci sono abitanti del villaggio allora possiamo portarli con noi. Gli abitanti del villaggio appariranno successivamente tramite alcune carte evento ma tranquilli poiché all'inizio della partita nessun abitante è presente sul tabellone. Vediamo adesso l'azione guida. Con questa azione è possibile attirare a sé un abitante del villaggio da uno spazio adiecente oppure se è presente nella nostra posizione è possibile mandarlo su uno spazio adiecente. Spiegheremo successivamente perché è importante spostare gli abitanti del villaggio e passiamo adesso alla prossima azione ovvero raccogli. Se nel luogo dove abbiamo la pedina sono presenti degli oggetti allora con quest'azione ne possiamo raccogliere un qualsiasi numero ed esempio il corriere nel laboratorio decide di prendere le due centrifughe. Gli oggetti presi vengono subito messi vicino al nostro distintivo e vediamo adesso la prossima azione ovvero azione speciale. Per eseguire questa azione basta controllare quanto scritto nella parte inferiore del nostro distintivo e quindi il giocatore applica l'azione speciale di quel personaggio. Fate attenzione poiché non tutti i personaggi dispongono di un'azione speciale e vediamo adesso la prossima azione ovvero condividi. Quest'azione permette di scambiare oggetti tra tutti gli eroi presenti nello stesso spazio e volendo il giocatore attivo non deve essere per forza incluso negli scambi. Infine vediamo le ultime due azioni ovvero avanza e sconfiggi. Queste azioni sono diverse per ognuno dei mostri e purtroppo l'azione sconfigge è bloccata fino a quando non risolviamo completamente l'azione avanza. Ad esempio nel caso di Dracula bisogna distruggere le quattro bare e per farlo bisogna essere con un personaggio sul luogo dove è presente una bara da distruggere e per risolvere l'azione avanza di Dracula bisogna scartare un totale di oggetti rossi che arrivino almeno a un valore di 6. Questo è riportato anche sulla bara di Dracula e non appena l'azione è stata risolta e l'oggetto scartato per prima cosa si rimuove la bara da quel luogo e viene subito piazzata a capovolta sullo spazio associato a dove si è risolta l'azione e quindi la pedina rappresenta una bara che è stata distrutta. Quando tutte le bare sono state distrutte allora è possibile effettuare l'azione sconfiggi e come per l'azione avanza ogni mostro ha un'azione sconfiggi diversa. Ad esempio per uccidere Dracula dobbiamo essere nel suo stesso luogo e scartare un totale di oggetti gialli che arrivino almeno a 6 e se ci siamo riusciti per prima cosa scartiamo gli oggetti rimuoviamo dalla partita la miniatura di Dracula e poi possiamo togliere anche la scheda e tutti i suoi componenti. In pratica il mostro eliminato non influenza più la partita. Non appena il giocatore ha concluso con la sua prima fase ovvero ha risolto tutte le sue azioni passa alla seconda fase del suo turno ovvero fase mostro. Per prima cosa pesca la carta in cima al mazzo dei mostri e la rivela a tutti i giocatori e poi bisogna seguire le istruzioni riportate sulla carta dall'alto verso il basso. Il numero in cima indica quanti oggetti dobbiamo pescare dal sacchetto degli oggetti e poi questi vanno piazzati come vi ho spiegato nel setup. Messi gli oggetti si passa alla parte centrale della carta ovvero risolvere l'evento e se la carta evento parla di un mostro che non è in gioco allora il suo effetto viene ignorato mentre se il mostro è presente allora bisogna risolvere l'effetto. Alcune carte invece fanno apparire gli abitanti del villaggio e quindi si prende la pedina corrispondente vicino al tabellone e si piazza sullo spazio indicato della carta evento che stiamo risolvendo. L'obiettivo degli abitanti del villaggio è quello di raggiungere il luogo indicato sulla parte superiore della loro pedina e se il giocatore riesce a portare nel luogo desiderato la pedina di quell'abitante del villaggio allora la pedina viene tolta e poi il giocatore attivo pesca una carta a beneficio. Non appena è stata risolta la parte centrale si passa infine all'attivazione dei mostri che è indicata nella parte inferiore. Ogni icona rappresenta un mostro che si deve attivare in questa fase e ovviamente se vi sono icone di mostri che non sono in gioco allora quell'attivazione viene ignorata. In questo caso si attiva prima Dracula e poi il mostro che è in frenesia e infatti può accadere che lo stesso mostro si attivi più volte. Quando un mostro si attiva prima deve risolvere il suo movimento e poi l'attacco e spieghiamo subito come funziona il movimento di un mostro. Il valore di movimento è indicato da quest'icona e se il mostro ha già un personaggio o un abitante del villaggio nel suo luogo allora non si muove mentre se è da solo in quello spazio allora si deve muovere verso il bersaglio più vicino seguendo il percorso più corto. Ricordatevi che comunque è limitato dal numero di movimenti indicati dalla carta mostro e in questo esempio ci sono due bersagli validi alla stessa distanza. Se vi sono due percorsi ugualmente brevi allora sarà il giocatore di turno a decidere su quale si muoverà mentre nel caso di più bersagli con la stessa distanza i mostri hanno una preferenza per gli eroi. Se vi sono più abitanti del villaggio o più eroi sta al giocatore di turno prendere la decisione e non appena il mostro ha finito il suo movimento passa all'attacco del bersaglio ovviamente se è presente nel suo luogo. L'attacco è indicato da questo valore e il valore indica il numero di dadi che bisogna tirare. Per ogni faccia senza simbolo non accade nulla mentre la faccia con il punto esclamativo fa attivare il potere speciale di quel mostro e nel caso della creatura della laguna nera fa indietreggiare la barca di uno spazio. Invece ogni faccia del dado che mostra questo simbolo rappresenta un colpito e se il giocatore vuole evitare la sconfitta deve scartare tanti oggetti dal suo inventario pari alle facce colpito. Se il giocatore non vuole o non può scartare oggetti così da coprire ogni colpito allora viene sconfitto e purtroppo per adesso la sua miniatura viene rimossa dal gioco e il terrore aumenta di un livello. Ciò significa che lo spostiamo di uno spazio verso destra e poi quando sarà nuovamente il turno di quel giocatore ripartirà dal luogo ospedale. Mi raccomando poiché basta soltanto un colpito non protetto per sconfiggere un personaggio e purtroppo gli abitanti del villaggio non hanno alcun modo di difendersi dai mostri quindi basta un colpito per eliminare la pedina dalla partita e purtroppo anche in questo caso la tensione aumenta di uno. Dopo che il mostro si è mosso e attaccato si prosegue con la prossima icona da sinistra verso destra e non dimenticate che se appare la fiamma si attiva il mostro in frenesia. Ad un certo punto alcuni eventi faranno spostare l'indicatore della frenesia e dunque avremo un nuovo mostro in frenesia. Non appena sono state risolte le attivazioni di tutti i mostri la carta mostro viene scartata e il turno del giocatore attivo finisce e quindi inizia il prossimo giocatore in senso orario eseguendo la prima fase ovvero fase eroe. Spiegate le regole di base vediamo adesso come finisce la partita. Se bisogna pescare una carta dal mazzo dei mostri e queste sono finite allora i giocatori perdono la partita e inoltre perdono anche se l'indicatore del terrore arriva al massimo. invece l'unico modo di vincere la partita è quello di sconfiggere tutti i mostri presenti in gioco. Arriviamo infine alle mie impressioni su Horrified. Finalmente riesco a mettere le mani su questo collaborativo che è piaciuto moltissimo a parecchia gente e finalmente ho capito il motivo. Partiamo col dire che Horrified si rifà tantissimo a quei collaborativi stile Pandemic barra Arkham Horror dove bisogna sbrigarsi nel chiudere la partita. Qui la maggior parte dei problemi li vediamo fin dall'inizio perché avere molti mostri in campo significa un sacco di rogne. Specialmente quando si giocano le partite standard a un certo punto e il delirio più totale e infatti ho apprezzato molto la personalizzazione per quanto riguarda la difficoltà ma anche le combinazioni di mostri che possiamo inserire. Parliamo di un collaborativo semplice da spiegare perché alla fine sono poche regole che non dura troppo una partita dura un'ora massimo un'ora e mezza quando si va lente sia in tanti però l'ho trovato dannatamente difficile da vincere. Già le partite standard contro e mostri danno filo da torcere perché non solo bisogna sfruttare il tempismo giusto per risolvere velocemente le missioni dei mostri ma poi bisogna far fronte anche all'elemento della fortuna. Questo si sente parecchio tra la pesca fortunata degli oggetti e la carta sbagliata al momento sbagliato però per la tipologia di gioco ci sta tantissimo. Horrified non punta a un'esperienza cooperativa deterministica né controllabile e invece bisogna adattarsi al continuo evolversi della mappa. Ovviamente con un po' di esperienza e sinergia si riesce a vincere però l'elemento di imprevedibilità è sempre dietro l'angolo. Nota di merito per quanto riguarda l'ambientazione accattivante e riuscita insieme a una componentistica accuratissima e infine mettiamoci delle meccaniche che sicuramente sanno di già visto ma che comunque sono lineari e funzionano. Tra le cose che ho apprezzato di meno sicuramente la scalabilità è un gioco che diventa troppo difficile con l'aumentare del numero di giocatori e infatti il numero perfetto è sicuramente tre giocatori mentre in due lo trovo un po' statico ma comunque funziona invece in quattro aumenta la fortuna. Il solo come sapete non lo provo mai mentre in cinque giocatori ve lo sconsiglio perché vi sono tempi morti un po' lunghi e l'imprevedibilità diventa devastante e in aggiunta ci inserisco anche il fattore dell'esperienza che può creare problemi specialmente per quanto riguarda il cosiddetto alpha player. Ovviamente non consideratelo un difetto se avete il gruppo giusto di gioco e poi ciliegina sulla torta Ravesburger lo ha localizzato in italiano. Horrified è un gioco collaborativo semplice e lineare ma che funziona molto bene che ha dalla sua una difficoltà da non sottovalutare specialmente nelle partite avanzate e ovviamente lo consiglio a chi cerca un collaborativo semplice e veloce con buone dosi di adattamento. Insomma per come la vedo io un prodotto davvero ben realizzato e infatti si becca una medaglia d'argento. Detto ciò siamo arrivati alla fine del video fatemi sapere un pochettino cosa ne pensate vi è piaciuto il gioco concordate con la mia recensione avete apprezzato il tutorial insomma voglio sapere la vostra commentate qua sotto vi ricordo infine di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno non dimenticate di attivare la campanella e se davvero apprezzate quello che sto facendo prendete in considerazione l'idea di abbonarvi al canale ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo alla prossima ciao a tutti